E ciao a tutti in questo video vedremo dove si trova e come poter risolvere uno degli enigmi presenti ad Abbasia Prima di lasciarvi il resto del video vi ricordo che sul canale è presente una playlist dedicata a tutti gli enigmi Quindi se avete bisogno vi basterà visitare il canale Detto ciò passiamo a vedere dove si trova questa enigma Come potete vedere dalla mappa la posizione è questa Prendendo di riferimento la città rotonda e scendendo in questa direzione troverete l'enigma Vi avvicino anche la visuale per comprendere meglio la posizione esatta Come potete vedere questa è la posizione Enigma Una volta raggiunta questa zona vi basterà raggiungere la cima di questo edificio E troverete l'enigma Potete utilizzare anche l'occhio dell'aquila per avere diciamo più visibile la sua posizione Come vedete eccolo qua Una volta poi raccolto andiamo a leggere insieme quelli che sono gli indizi fondamentali Per comprendere la posizione proprio del tesoro associato a questo enigma Come potete leggere il dono Andiamo a vedere insieme l'indizio principale Ho gettato il mio dono nel fiume e l'ho visto allontanarsi verso il ponte dove ti corteggiai Vicino alla porta nota per i suoi mercati Dobbiamo trovare la porta ovviamente vicino ai mercati e seguire il corso del fiume Tra poco vi mostrerò quale punto del fiume presenta il tesoro Come potete vedere il punto è questo Prendendo di riferimento sempre la città rotonda andando in questa direzione Proprio in prossimità di questo punto di osservazione Troverete il tesoro Vi avvicino anche la visuale per comprendere meglio il punto esatto Questo è il punto da raggiungere ragazzi Qua troverete il tesoro Ovviamente sulla mappa finché non vi avvicinate il ponte non sarà visuale Tra poco vi mostrerò proprio come vedete anche adesso Che il ponte si può vedere Ma voi molto probabilmente questo punto non l'avete visualizzato A meno che non ci siete già stati Quindi prendete di riferimento come vi ho fatto vedere il punto di osservazione Da lì salendo semplicemente a nord lo troverete Tra poco andremo anche ovviamente ad aprire e vedere il contenuto di questo tesoro Però vi ricordo vi lascio il resto del video Ma vi ricordo di scrivere nei commenti se avete bisogno di altri aiuti Un saluto ragazzi e al prossimo video Ciao 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 Ciao